Non funziona l'impianto di riscaldamento e la palestra dell'istituto scolastico Camera di Sala Consilina da un mese resta inutilizzata. A denunciare il fatto i consiglieri di opposizione del gruppo Salesi che hanno presentato un'interrogazione urgente al sindaco Cavallone e all'assessore all'edilizia scolastica Galiano. Ha anche tenuto conto che in questi giorni è previsto l'open day per la promozione dell'istituto con una serie di attività che dovrebbero svolgersi proprio all'interno della palestra della scuola. Chiediamo di sapere, si legge nell'interrogazione, per quale motivo da oltre un mese l'impianto di riscaldamento della palestra non è funzionante e sollecitiamo l'amministrazione a disporre tutti gli interventi necessari al fine di ripristinare il regolare funzionamento dei caloriferi consentendo così agli alunni di compiere regolarmente le attività motorie previste dal piano didattico. Il primo cittadino Francesco Cavallone è raggiunto dalla nostra emittente ha fatto sapere che si sta lavorando alla risoluzione del problema. C'è stato un guasto tecnico ha detto abbiamo già fatto il sopralluogo ci vogliono ora i tempi necessari per sostituire l'impianto ma stiamo già operando.